E adesso valutiamo, la sacerdotessa è una new entry, una ragazza, e fa sempre piacere una ragazza che entra nel nostro contest. Vediamo, mescola le carte, come vediamo sta mescolando mazzi e carte, intanto la ripresa sembra dentro un astronauta, molto a film, quindi complimenti all'operatore. Allora, il 3 di fiori per me è una sezione numero 12. Cioè da un mazzo mescolato, la cosa che mi affascina di questo video è che una ragazza fa un video del genere, cioè un gioco del genere, certi ragazzi fanno giochi molto più semplici. Qui siamo a livello veramente alto, il 3 di fiori, 14esima ragazzi, ma quanta è brava! Allora, io votazione, votazione a questo gioco ragazzi non mi ha lasciato indifferente decisamente. Io do un ripresa particolare, pulito come video, decisamente il miscuglio che poi può essere vero o non, ma mi ha colpito. Io do un 9, un 9 pieno. E io ho un 8 e mezzo. 8 e mezzo. Ragazzi, continuate a seguirci, mi raccomando, i video stanno arrivando e sono tantissimi. Ciao da Stefano Nobile! E Emanuela! Ciao da Stefano Nobile! Grazie a tutti.